Vesux Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesux Concept Food è braceria, pizzeria, burgheria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesux Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesux Concept Food, Casoria. L'Under 15 del Napoli non va oltre il pareggio in casa contro l'Ascoli, penultimo in classifica, nonostante abbia comandato la gara al Kennedy. Gli azzurrini hanno subito un'occasione, al secondo minuto, Pignarosa, di piatto destro, da buona posizione, spedisce il pallone al lato. Il gol arriva un minuto dopo, sovrapposizione interna di Cebarano sulla fascia destra, palla al centro e zampata di Saviano. Che batte Ciotti per la rete del vantaggio del Napoli. Al nono minuto stacca Palomba di testa su punizione, il pallone termina alto sopra la traversa. È un monologo del Napoli, al quindicesimo un'azione che si sviluppa sulla sinistra con Candela, respinge la difesa dell'Ascoli. Il pallone arriva a Maida che va al tiro dal limite dell'area. La conclusione è deviata e finisce al lato. Al diciassettesimo lancio dalle retrovie, Codruccello fa la torre per Saviano, che a tu per tu con il portiere dell'Ascoli calcia alto sopra la traversa. Al venticinquesimo l'Ascoli si rende per la prima volta pericoloso. Tutto nasce da un calcio d'angolo, pallone spedito in aria, stacca Amadio, il colpo di testa si stampa sulla traversa. Il Napoli ha la partita in mano, al trentaduesimo la conclusione di Candela dalla distanza e bravo Ciotti a rifugiarsi in calcio d'angolo. Il primo tempo finisce 1-0 per il Napoli. La ripresa inizia con lo stesso spartito. Al settimo minuto splendida palla di Prisco per Pignarosa. Il tiro del numero 7 azzurro si stampa sul palo. Al decimo l'Ascoli impensierisce il Napoli, ancora da calcio d'angolo. Pugliese blocca il pallone in due tempi. Gli azzurini riescono a ripartire e hanno un'altra palla goal con Pignarosa. Ciotti gli dice di no e anticipa anche Saviano prima che potesse arrivare sul pallone. Quando le partite rimangono in bilico può accadere di tutto. E al ventisettesimo l'Ascoli pareggia. Pugliese rinvia male sui piedi di Di Mauro che beffa il portiere azzurro fuori dai pali. Pugliese riesce solo a toccare il pallone che si insacca alle sue spalle. Al quarantaduesimo il Napoli chiede un rigore per un intervento di Giacchini su De Rosa. Il fallo sembra evidente ma l'arbitro decide di far proseguire l'azione. L'ultima occasione arriva al quarantacinquesimo. Calcio di punizione di Prisco dalla sinistra. Saviano riesce solo a toccare il pallone di testa che termina a lato. Finisce uno a uno il Napoli così. Conclude il girone d'andata. Ci sarà una lunga sosta. Si ripartirà il 22 gennaio. Il Napoli inizierà il girone di ritorno affrontando il Modena al Kennedy. Sì, io ci sono confronti di Piedi. Grazie.